La prestigiosa Mason ha scelto una caravan, trasformata in showroom, per portare nelle città le proprie realizzazioni. La Raulotte è stata scelta perché versatile, consente di entrare in qualunque centro storico, nel caso di blocco del traffico a determinate classificazioni di veicoli, non ci si blocca con tutto, ma basta cambiare la vettura motrice e la libertà di viaggiare resta intatta. Il negozio 55 in movimento ovviamente è come un negozio, quindi ci sono una detta all'interior design per allestire e profumare di fiori freschi la boutique, i commessi e tutti coloro che servono in un vero e proprio negozio. L'attenzione ai dettagli è fondamentale, ecco quindi che all'interno c'è posto pure per uno schermo video che riproduce l'ultima sfilata di abbigliamento donna della primavera 2021. Il servizio è, per ora, in via di sperimentazione in alcune aree di New York ma visto il successo, la Mason sta valutando la sua implementazione anche al di qua dell'Atlantico. questa è una produzione che utilizzano i tradesому interattori e allume. All'arte